direi di leggere l'ultima parte dedicata a Fingol e Melian vai capitolo quarto Fingol e Melian Melian era una maia della stirpe dei Valar dimorava nei giardini di Lorian e tra la sua gente nessuno era più bello di Melian né di lei più saggio né più abile in fatto di incantesimi si narra che i Valar abbandonavano le proprie opere e gli uccelli di Valinor i loro spassi che le campane di Valmar tacevano e le fonti cessavano di dar acqua quando al mescolarsi delle luci Melian intonava in Lorian i suoi canti Osignoli sempre l'accompagnavano ai quali essa insegnava a cantare e Melian amava le ombre profonde dei grandi alberi prima che il mondo fosse fatto era apparentata con Yavanna stessa e al tempo in cui i Quendi si destarono accanto alle acque del cui Vienen Melian se ne andò dal Valinor per ecarsi nelle terre di qua e riempì il silenzio che regnava sulla terra di mezzo prima dell'alba con la sua voce e quella dei suoi uccelli ora quando il loro viaggio era prossimo alla fine come si è detto i Teleri si soffermarono a lungo nel Beleriand orientale di là dal fiume Gelion e all'epoca molti dei Noldor ancora dimoravano all'ovest in quelle foreste che in seguito furono dette Neldoreth e Region Elue signore dei Teleri spesso andava di là dai grandi boschi a cercare Finue l'amico suo nelle sedi dei Noldor e accadde una volta che passasse solo al lume delle stelle per il bosco di Nanelmoth e cui vid'un tratto udì il canto degli Usignoli allora un incantesimo scese su di lui che rimase immobile e laggiù lontano oltre le voci dei lome lindi udì quella di Melian la quale gli colmò il cuore di meraviglia e desiderio e dimenticò affatto il suo popolo e i propositi della sua mente e seguendo gli uccelli nell'ombra degli alberi penetrò nelle profondità di Nanelmoth e si sperdette alla fine però giunse a una radura aperta alle stelle e qui stava Melian e dal buio egli la contemplò e la luce dell'Aman era sul volto della donna questa nulla disse ma pieno com'era di amore Elue venne a lei e le prese la mano e improvvisa una malia fu su di lui e così rimasero mentre lunghi anni venivano scanditi dalle stelle rotanti sul loro capo e gli alberi di Nanelmoth crebbero alti e scuri prima che pronunciassero una sola parola così la gente di Elue che lo cercava non lo trovò e Olue assunse la signoria dei Teleri e si dipartì come si dirà in seguito ma quanto Tolkien si spassava a fare gli spoiler eh sì a fare dei modi spoiler bello 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 posso dire che l'ho preferita tutta questa parte rispetto a quella bellissima la voglia l'altra era cronachistica esatto esatto era più cronachistica informativa e così via questa è affascinante anche perché l'ha anche parzialmente romanzata Tolkien sì e allora come dicevamo prima che cosa accade prima di andare a vedere cosa accade voglio farvi capire Melian le origini di Melian di cui parlerò sul canale ovviamente eccola qua viveva qui Melian questa bellissima isoletta nei giardini di Lorian che non è Loth Lorian ma questo è Lorian Valinor dove c'era anche Yavanna questi erano i pascoli di Yavanna i boschi di Oromi ci sono tutti aule di Nienna le aule di Mandos sono qui tutti i Valor vivevano in questa regione soprattutto nel sud di Valinor qui c'era Valmar gli alberi di Valinor che erano un po' più a nord e i Cretir Tirion e qui c'erano le varie città degli elfi al qual ombre dei Teleri tra i Cretir dove c'erano Maui e i Vanyar e Tirion per i Noldor qui c'erano le varie casette dei Valar i vari paradisi dei Valar Melian viveva qui e infatti era imparentata con Yavanna erano molto vicine tra l'altro ora viene fuori subito una caratteristica di Yavanna come possiamo leggere una caratteristica che come possiamo ben capire la mette subito in collegamento con con Lucian lei Yusignole ragazzi Yusignole Lusignolo fa parte del nome stesso di Lucian e quindi lei è la madre di Lucian qui lo capiamo molto bene se il testo non specificasse che si tratta di Melian noi potremmo pensare che è Lucian quando ci racconta di lei che canta con Yusignole e così via potremmo benissimo pensare ma lo stesso quello che succede al povero Elway ricorda tantissimo quello che succede a Beren quando la vede nei boschi del Doriath ricorda tantissimo anzi possiamo dire che è un evento che si ripete possiamo dirlo si ripete in maniera molto simile con delle piccole differenze perché Elway rimane proprio incantato ipnotizzato passano gli anni passano il tempo in cui Elway rimane ipnotizzato immaginate questo che poi rimane inizialmente ipnotizzato già dal canto di Melian ragazzi già da quello Beren comunque la vede Lucian e rimane diciamo ipnotizzato e voglio mostrarvi dove avviene questo incontro perché è fondamentale ci troviamo nel Beleriand e vuoi dire vabbè lo sappiamo quindi siamo qui perché avevamo detto che Elway era arrivato con i vari Taleri fra l'altro qui attenzione è una specifica sempre qui molto cronachisti però sta da fare quando Elway scompare Tolkien ci dice che il capo dei Taleri diventa Olway questo vuol dire che in realtà originalmente il capo dei Taleri era Elway non era Olway era Elway che guidava la schida dei Taleri probabilmente non Olway perché se Olway poi prende la testa dei Taleri quando Elway scompare allora Elway era il capo dei Taleri dall'inizio Olway lo diventa quando Elway scompare e poi Olway insieme ai Taleri va a Valinor e sfunda al Quolonde e fonda vabbè crea quello che è avevo capito sfunda no no anche no 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 fonda al Quolonde poi mappa Beleriand eccola qua questa è la mappa specifica del Beleriand però è come se avessimo zoomato sulla mappa precedente e ora guardate cosa ci dice guardate qui il Gheleon il fiume che viene citato almeno due volte in questo capitolo eccolo qui e questo fiume è qui questi sono i monti azzurri i monti che vi ho fatto vedere prima che segnavano il confine tra la Terra di Mezzo e il Beleriand che sono questi qui questa è la regione dove poi vanno a mettersi vanno a viene colonizzata dagli Elfi Verdi di come si chiama il re degli Elfi Verdi lì Lenue e questo è il Gheleon dove avviene un po' il tutto è un po' il punto di passaggio nel Beleriand il Gheleon questa è la regione patti di fiume andiamo qui gli Elfi arrivano in questa regione qui su queste coste qui ma non mi ricordo se è stato qui o qui dove c'era l'isola che poi verrà utilizzata per traghettarli comunque questa regione qui mentre il tutto avviene qui e in modo particolare ragazzi zoomiamo zoomiamo eccolo qui questo è il bosco di Dan Elmoth ci troviamo leggermente a est rispetto al Doriath quindi è un bosco che si distacca dal Doriath quindi è un bosco a sé anche se molto vicino al Doriath come potete vedere e qui avviene l'incontro tra Merriand e Delwe mentre qui avrà l'incontro tra Beren e Lusian siamo proprio lì qui avviene tutto l'incontro eccetera eccetera che succede che dopo Melian ed Elwe si trasferiscono nel Doriath e formano il regno del Noriath in modo particolare Menegroth che a grandi linee dovrebbe trovarsi qui Menegroth a circa sud della regione un po' più meridionale del Doriath e questa la nasce le origini ragazzi queste sono le origini degli Elfi grigi degli Elfi grigi del Doriath del Beleriand o del Doriath qui sappiamo che poi Melian crea la cintura e tutto il resto e Elwe regnerà Fingol che poi diventerà Elwe e Fingol singolo quello che è regnerà sul Doriath e sarà per buona parte del tempo il re del Beleriand poi arriveranno gli Elfi in Oldor che è bordello quando arrivano in Oldor casino assoluto detto questo questo è l'origine quindi dei vari Elfi poi se non sbaglio c'è anche la parte finale che ci dice alla fine ah una cosa specifica che ci fa Tolkien è che Melian ha visto Valinor ha visto la luce di Valinor e ma in realtà Elwe non l'ha vista però che succede era comunque un grande tra gli Eldar che l'unico di tutti i Sintra aveva visto con i propri occhi gli alberi nel giorno della loro fioritura ma esatto c'era andato c'era andato a Valinor era stato uno dei tre che era stato uno dei tre Elwe fine le avevano stacchere l'immagine giusto giusto mio lapsus è vero scusate era stato lì quindi entrambi e non avevano visto Valinor quindi erano l'eccezione degli elfi nel Beleriand perché erano gli unici ad aver visto è giusto quello è l'Elwe che andò lì insieme a Ingue e infatti mio lapsus chidovenia lui è un calaquendo che governa sui moriquendi esatto anche se è del loro stesso ceppo esattamente praticamente sì praticamente sì tra l'altro vabbè qui c'è l'errore di traduzione tra l'altro è presente anche nella mia edizione dove c'è c'è scritto una stirpe di Aynur no infatti ho controllato in inglese strain of the Aynur che sarebbe strain sarebbe il carattere ereditario cioè come delle gocce di sangue degli Aynur vanno tra di loro capito tra gli elfi e gli uomini questo è il senso non è che è una stirpe di Aynur la frase il pezzo dice ma da essa discese sia tra gli elfi che tra gli uomini una stirpe di Aynur che era con un ilulavatar prima di Aynur infatti non è una stirpe ma come la possiamo interpretare questa frase è una frase strana eh no perché è stata mal tradotta appunto io ho controllato adesso proprio l'originale dice non dice una stirpe ma dice strain of the Aynur cioè discende tra elfi e uomini cioè strain sarebbe il carattere ereditario degli Aynur cioè il un germe degli Aynur discende in mezzo agli elfi e gli uomini capito non è la stirpe ma perché la traccia la vena degli Aynur perché Melian è la madre di Lucian è un elfa no ma in realtà Lucian è un mezza elfa e mezza mezza maia è un Aynur eh sì è un Aynur possiamo definirlo così lei è una mezza divinità Lucian tutti gli effetti eh sì e da loro lei si si sposa con un uomo quindi ma infatti anche dei poteri che potremmo definire magici il potere del pelli il potere del santo fa addormentare il sole incanta Melkor ragazzi cioè per incantare Melkor non è che tutti sono capaci voglio dire voglio dire e quindi dalla la stirpe che discende da Melian ed Elwe effettivamente sono hanno un germe degli Aynur hanno un germe degli Aynur che derivano da Melian chissà cosa pensano i Valar di questa di questo mescolanza di sangue dei Maiar con gli elfi e addirittura con gli uomini chissà non sappiamo nulla anche per esempio Aragorn voglio dire ha un centoventottesimo di sangue di indebolitesi nelle perché pure lui è un discendente di Luthien praticamente sì molto lontano però è ovviamente per generazione dopo generazione tutto ciò il germe si perde il figlio di Luthien di Yor se non sbaglio si chiamava doveva avere sicuramente molto più di Aino rispetto alle generazioni successive eh certo però comunque qua dice che comunque è Melian che conferisce il grande potere a Fingal attenzione però Fingal aveva visto giustamente la luce degli alberi e poi c'è questa questo spoiler spoileroso di Tolkien l'amore di Fingal e Melian dà origine al più bello di tutti i figli di Luthien che mai vi fu o sarà il più bello di sempre cioè appunto la nostra Luthien che è un po' una una un po' una un riflesso di Melian potremmo definirlo è un tutti gli effetti solamente che ha nel suo nelle sue vene anche sangue elfico di un grande elfo quindi chissà quanto effettivamente possiamo considerare addirittura superiore no non penso superiore a Melian però questa mescolanza di sangue tra un Meli tra un Mayar è un elfo ha dato origine a qualcosa di straordinariamente bello qualcosa di unico di eccezionale e questo grazie probabilmente al sangue di Melian per forza va bene Paolo sì questo questo particolare della luce di Valinor è bello perché da una parte si vede come l'amore che viene illustrato da Tolkien è vedere la più grande luce divina nella faccia nel volto dell'amata è una cosa bellissima questa di di Elway che vede il volto di Melian e di basta perché di fatto è il sostituto della luce di Valinor degli alberi che lui voleva vedere perché il capitolo prima finisce che dice che lui sta cercando di arrivare dall'altra parte perché era grande amico invece del re dei si si di Fingue quindi aveva dentro questa cosa invece dopo l'amore gli fa cambiare completamente i piani e la volontà e il bello è che dall'altra parte però Melian non è la luce di Valinor anche lei è una luce depotenziata perché è un mix è un mix tra Varda e Yavanna perché ha la luce come Varda e il canto di Yavanna però non è nessuna delle due oltretutto non è neanche una una delle valier cioè è una è una maia e e quindi anche a Tingle in fondo con l'amore gli basta una luce minore e c'è questo amore di sostituzione in cui comunque ci si accontenta di questa luce sai che non l'avevo mai vista in questo senso cioè tu dici giustamente Melian rappresenta un po' la luce di Valinor e quindi dato che Elwe l'ha vista a Valinor la riconosce in lei esattamente molto bella questa cosa però è una luce minore però alla luce dell'amore lui la vede esattamente in quel modo là però però c'è un altro particolare linguistico che nota sempre la Flieger che è bellissimo a proposito del nome di Elwe perché Elwe diventa Elwe singollo diventa Elutingol cioè si passa dal Quenia perché Elwe singollo è in Quenia e vuol dire persona delle stelle o persona della luce Elwe e singollo che abbiamo visto che vuol dire manto grigio e invece in Sindarin che è la lingua dei Sindar cambia e diventa semplicemente Elu tingoll c'è anche qui un depotenziamento e la Flieger nota che anche dal punto di vista delle lingue il Sindarin rappresenta un passaggio dal Quenia che invece è la lingua della luce a una lingua molto più oscura esattamente come tingoll che non tornando più a Valinor ma restando nella terra di mezzo e di fatto accontentandosi di una luce minore come quella che gli offre Meglie anche nel suo nome rispecchia questa perdita di luce quindi questo svrittamento anche linguistico da una fonte di luce primaria a una fonte di luce meno brillante ed è io la trovo una cosa affascinante perché solo un filologo e uno che ragionava sulla lingua e le parole poteva inventarsi queste cose infatti il Quenia infatti il Quenia è molto più ricco di vocali molto più molto più lirico molto più molto più liquido il Sindari è sempre una lingua stupenda ma un po' più è un po' più sussurrosa un po' più con molto più aspra e consonante con questi infatti perché si passa dall'ispirazione del finlandese al gallese al gallese che quindi dietro anche queste motivazioni linguistiche fonetiche bellissimo l'amore la luce la fonetica la linguistica è tutt'uno molto molto bello perché si è messo sto coso ok guardate vi ho messo a tutto schermo qualche illustrazione non c'è allora devo la verità non ci sono queste grandi illustrazioni per quanto riguarda l'incontro con Melian e Fingo purtroppo non ne ho trovate veramente di lodevoli questa è una delle più particolari perché Melian in questo caso a parte che ha le orecchie alfi non mi convince del tutto ma l'espressione mi ricorda una nota attrice italiana Miriam Leone fateci caso Miriam Leone dagli occhi un po' Miriam Leone Miriam Leone Miriam Leone esatto Miriam Leone vabbè comunque beh raga il bello delle allistrazioni è che comunque ogni illustratore lo sappiamo dalla propria interpretazione va bene è